Musica Sala grande gremita per la presentazione di Box Office 3D, il film di Ezio Greggio accompagnato in questa avventura da un elenco infinito di comici della TV e vecchie glorie del piccolo schermo neanche una risata vera però strappata alla sala ma solo applausi di una clac consistente alla fine di ogni improbabile episodio hanno accompagnato la proiezione il film è senza senso come non ha logica a pagare un biglietto per vedere e sentire la comicità di Greggio assistito per questo film da ben quattro sceneggiatori Fausto Brizzi, Marco Martani, Rudy De Luca e Steve Haberman in questi momenti di crisi un comico come Ezio Greggio continua ad avere un suo senso soltanto in TV rigorosamente chiudald sendo un senso soltanto in questi non uniti di crisi un pocciрьmico per la permittura di Steiner